Sì, ho paura che mi casca il tetto in testa. Fontanelle è abbandonata a se stessa. Dopo la violenta grandinata di mercoledì, i palazzi del quartiere di Pescara sono in uno stato di degrado totale, ancora più di quanto fossero prima. Adesso, a seguito di questa calamità, la situazione è peggiorata, i tetti sono tutti bombardati, ci sono aperture enormi, dove 10 centimetri, 20, 30 centimetri, infiltrazioni continue, piove, le case sono quasi tutte allagate, c'è uno stato di emergenza totale. I tetti portano i segni della calamità naturale, l'acqua si è infiltrata negli appartamenti e la muffa si fa largo ovunque. È entrata l'acqua e l'acqua è passata dal solaio della camera di mio figlio, della camera di mia figlia, io non lo so. I palazzi sono proprietà di Ater e Comune di Pescara, i cittadini hanno esposto più volte la situazione a chi di competenza e nessuno si è preoccupato di venire a verificare i danni, né tantomeno di programmare un intervento. Giovedì mattina sono andata al Comune, ho parlato con un sacco di persone, si passano, vai da quella parte, vai dall'altra parte, vai a destra, vai a sinistra, hanno preso nota, però hanno detto che se ne parlerà prima dell'inverno perché devono fare la delibera, però intanto Sant'Antonio ci vuole tanto venire a cambiare le tegole, almeno le tegole. Mentre temono per la stabilità dei fabbricati, gli abitanti di Fontanelle si sentono lasciati a se stessi, cittadini di serie B nascosti sotto il tappeto delle periferie e dei quartieri popolari. Fontanelle è tragica, qua nessuno interviene, sono anni e anni che è tutto lasciato così. Noi facciamo delle richieste ma nessuno viene, poi però quando è ora delle votazioni fanno la fila per venire le associazioni. Nel pomeriggio intanto è previsto il maltempo e la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Io se potessi me ne scapperei, purtroppo mi dispiace ma non posso scappare, ma se potessi me ne scapperei perché proprio non c'è il servizio di nessun tipo.